E in questi giorni in America l'Italia ci manca un casino, ho visto che Giovanotti dopo Saviano ha dato la sua illustre opinione sulla trap italiana, ci voleva, grazie, poi tutti gli artisti che bragano sui numeri, io ho fatto 50 milioni in 12 ore, io sono numero uno in 24 ore, io ho fatto gli streaming in 50 ore, io ce l'ho più lungo, me lo sono misurato con il righello. Il mio post tipo il secondo o terzo più di successo in assoluto nella mia storia di Instagram è uno affatto al mare dove 1200 uomini dicono sei un chiatone, sei un ciccione di merda, ma non ti dovevi comprare la Lamborghini? Ma te la sei comprata la Lamborghini? Ma te la sei scopata la Lamborghini? Eh ma cos'hai il Porsche, dovevi poter riprenderlo a benzina turbo? A me non mi interessa la Lamborghini della macchina, ovvio che a tutti piacerebbe averla, mi sono comprato una Porsche alla fine perché come giustamente tutti dicono su Instagram non c'ho un euro quindi non potevo permettere la Lamborghini, mi sono comprato la Porsche. Però il pezzo per tutti gli intelligentissimi non significa che voglio comprare la macchina, significa che nella città gli italiani, gli africani, i latini e tutti quanti, tutto il mondo vuole farcela, vuole fare soldi, vuole arrivare. Hai visto che bella lezione di vita che mi metto a fare? A quest'ora perché sto aspettando che Shablo mi porta da mangiare perché sono stato al lavoro tutto il giorno e sto morendo di fame qua mezzanotte. E sempre a tutti i geni di Instagram, volevo dire che non c'è bamba sul tavolo, non ce n'è, non c'è la riga sul tavolo, non la devo togliere, ditemi togli la riga di bamba, non c'è. Poi vedete la bamba dappertutto ma ce l'avete qua, nel cervello. Finalmente mi ha portato la mangiare, se no mi stavo mangiando questa. Ho visto le più belle le mie storie istruttive, per grandi e piccini. Ho fatto la cultura per tutti, guarda.